il cavaliere scese una lampa di scale e vide la guarnigione seduta a terra in piccoli gruppi alcuni giocavano a dadi altri a filetto altri ancora a zara e tutti ridevano e bevevano raccontandosi storie scese in magazzini e poi giù fino ai sotterranei attraversò un lungo corridoio e dopo un attimo di esitazione aprì la porta della stanza di mercuria era la prima volta quella che ac si ritrovava da sola lì dentro chiuse la porta alle sue spalle e lesse le parole incise nelle pietre angolari alla base della piramide sul pavimento volontà immaginazione conoscenza segreto al vertice della piramide c'era scritto potere la stanza era riscaldata e illuminata da un grande camino sovrastato da un dipinto di artemide ritratta sulla riva di un fiume assieme alle ninfe le donne erano seminude alcune in piedi e tutte le altre sdraiate sugli scogli dentro una fitta vegetazione ricca di cascate ac andò davanti all'altare dei riti magici sul lato sinistro della stanza di rimpetto al camino l'altare era un tavolino quadrato coperto da un pesante velluto rosso al centro e verde ai lati sopra l'altare sul fondo c'erano due candele spente verde quella di sinistra e rossa quella di vestra al centro davanti alle candele brillavano un incensiere d'argento a forma di conchiglia e una ciotola di pino ricca di venature e con fiori di biancospino dentro il re notò per la prima volta la scritta ricamata sulla tovaglia dell'altare impercettibile a distanza spostò incensiere e ciotola e lesse non mi inchino di fronte agli dei ma creo con loro un mondo migliore e infatti mercuria non si inchina mai davanti a diana sta sempre in piedi penso hack il cavaliere alzò lo sguardo sulla parete sopra l'altare c'era inciso un grande cerchio con dentro una stella a cinque punte il pentacolo come lo chiamava mercuria a destra e a sinistra del pentacolo altri due dipinti di artemide in quello di sinistra la dea era raffigurata con zeus in quello di destra con appollo hack non sapeva che zeus e appollo fossero il padre e il fratello di artemide lo scoprì leggendo le prime pagine di un grosso volume poggiato sul leggio lì di fianco intitolato artemide dea di libertà artemide per i greci diana per i romani è la dea della luna figlio di zeus e latona sorella gemella di appollo all'età di tre anni chiesa il padre zeus l'eterna verginità tanti nomi quanti ne aveva suo fratello appollo un arco delle frecce come i suoi il compito di portare la luce una tunica da caccia color zafferano col bordo rosso lungasino alle ginocchia sessanta giovani ninfe oceanine tutte della stessa età come sue damigelle d'onore venti ninfe dei fiumi che si prendessero cura dei suoi calzari e dei suoi cani quando non era impegnata nella caccia tutte le montagne del mondo e una città a scelta del padre tutte le montagne del mondo ripete sballordita hack che prese a sfogliare curiosa le pagine si fermò sulle illustrazioni della vita di artemide e lesse alcuni titoli artemide uccide i figli di niobe che insultano sua madre latona artemide uccide il drago che attacca sua madre artemide uccide tizio che tenta di violentare sua madre artemide uccide orione che tenta di rapire la sua compagna opide il cavaliere continuò a scorrere le pagine e notò che erano tutte in quel modo con artemide sempre raffigurata a uccidere qualcuno combatte sempre pensò sconcertata hack perché sua madre era minacciata da tutti ma se la tona non avesse avuto artemide come figlia sarebbe stata insultata violentata e uccisa e zeus che faceva dormiva il cavaliere voltò pagina e guardò il ritratto di un giovane che si specchiava nell'acqua il titolo era artemide vendica la morte di eco e aminio richiuse il libro e si voltò guardò il complesso sistema di alambicchi montato sul tavolo rettangolare al centro della stanza e seguì per un po il percorso dei vicini di vetro che collegavano un'ampolla all'altra poi si voltò di scatto alla sua sinistra e andò veloce alla credenza delle erbe mediche guardò per un attimo l'immagine di artemide e piegò verso il basso le maniglie per aprire la dispensa ma la dispensa non si aprì e lei si voltò delusa a guardare altrove a lato della dispensa in un buco scavato nel pavimento dei ceppi accesi scoppiettavano sotto un pesante calderone di ferro a tre piedi facendo fumare ribollire l'acqua al suo interno hack superò la porta che dava alla stanza da letto di mercuria e si arrestò davanti a una nicchia sul fondo c'era scritto oracolo dello spazio e del tempo e all'interno custodiva la sfera magica di mercuria sopra un cuscino rosso e verde ricamato al centro con l'immagine del pentacolo hack sfiorò con le dita la sfera poi andò a sdraiarsi sulla panca a lato del camino e chiuse gli occhi mercuria si avvicinò lentamente ad hack e posò una mano sulla sua spalla hack aprì gli occhi e scattò in piedi ringraziamo gli dèi ad aspettare voi si fa prima a morire la strega la scrutò negli occhi senza ribattere o gli incubi mercuria non ditelo a nessuno ma credo di stare impazzendo mercuria sorrise ed era raro che lo facesse cos'è la follia come faccio a capire se sto impazzendo le domandò hack se conosceste la storia re hack sapreste rispondervi anche da sola rispose la strega sedendosi sulla panca vi ho fatto una domanda conoscete la risposta chiese nuovamente hack con tono più dolce per i giusti la follia è la voce del diavolo ma sapete anche cosa generano pensieri malsani come quello per platone la follia è un dono degli dèi ipocrate direbbe che siete troppo sanguigna vi farebbe i salassi e gli chi vi chiamerebbero hubris esclamò sorridente la strega mi interessa platone voglio incontrarlo affermò convinta hack è morto platone informò burbera la strega viveva nel regno dei filosofi aggiunse con uno sguardo sempre più luminoso parlatemi di lui era un uomo buono la sua vita cambiò quando condannero una morte il suo maestro socrate trattato come un criminale pur essendo il più giusto fra gli uomini per agire con giustizia bisogna sapere cosa è il bene diceva socrate i giusti non hanno idea di cosa sia il bene aggiunse a tono hack proprio così idea ripete la strega pensierosa e continuò il sole diceva platone fa riconoscere il vero volto della realtà il sole come idea del bene idea suprema attorno alla quale il mondo delle idee si costruisce e al quale essa conferisce la sua unità h grottò la fronte si sedette in silenzio accanto a lei e dopo un po confessò non ho capito cosa avete detto mercuria siamo all'inferno e pieni di demoni perché non abbiamo il sole è questo che intendete dire la strega lui e i suoi occhi presero a guardare lontano come i regni senza la luna inseguono un destino di pari crudeltà rispetto a quello nostro specificò la strega dovremmo unificare il cielo ma solo loro possono loro chi loro è il mio dio spiegò hack essendo metà uomo e metà donna ho deciso di chiamarlo loro mercuria ci voltò a fissare il calderone alla sua destra che significa ibris ruppe il silenzio hack tracotanza orgoglio prepotenza ignoranza dei limiti elencò ad un fiato la strega lanciandole una serie di occhiatacce hack rimase calma ma rispose a tono se conoscete tutte queste cose mercuria e anche grazie a me che vi ho mandato all'università non dimenticatelo ed è ignorando i limiti che vi ho fatto vivere libera anziché finire in un calderone come quello a bollire a fuoco lento aggiunse sorridendo con gli occhi mercuria riprese a parlare dolcemente della follia nei draschi la follia è reato lo sapete viene punita con la segregazione nei regni i folli li giudicano in funzione di quanto sono incapaci di lavorare e stare con gli altri e più sono inutili e più li condannano all'emarginazione come i poveri i malati e i criminali cos'è dunque la follia re hack lo sapete voi finì la strega battendosi le mani sulle ginocchia hack si sentì sollevata da quelle parole perché aveva capito che in ogni tempo in ogni luogo la follia era stata sempre definita in modo diverso ma così diverso che quindi la follia in realtà non esisteva e se non esiste non posso diventare pazza nemmeno se ho gli incubi non ho nulla da temere concluse fra sé se hack poi tornò a parlare con la strega avete sentito che ha detto ortensio hanno unificato gli eserciti non vi sentite circondata da un branco di demoni che vogliono farvi a pezzi e darvi alle fiamme per voi mercuria allestirebbero un rogo alto fino al cielo ne sono certa per non far sbagliare strada alla vostra anima quando si ricongiungerà a dio e voi come mi salverete non vi salverò rispose tranquilla hack ci massacreranno tutti se metteste da parte l'orgoglio e chiedeste aiuto salvereste voi me e tutto il vostro popolo disse a bassa voce la strega a chi dovrai chiedere aiuto ai regni la terra dei saggi ha stretto già una volta un patto col diavolo ve l'ho detto ma poi marlem ha armato il suo esercito ed è corsa in vostro aiuto ribatte la strega hack non voleva parlare dei regni i ribelli sono dei poveri disperati invece dovrei essere io ad aiutare loro non loro ad aiutare me nei regni c'è una donna che vi aiuterebbe di certo se solo glielo chiedeste riportò il discorso sui regni mercuria come si chiama era ansiosa di sapere alexandra innocente l'ha ucciso un fratello pochi giorni fa è più ricca e potente di lui e questo innocente non lo sopporta così ha pensato bene di eliminarla alexandra è scampata all'agguato per un soffio e ora un grosso conto in sospeso con lui hack rimace sconcertata da quelle parole innocente ha fatto questo non lo sapevo dite che alexandra farà guerra ai giusti non lo so e ora andatevene il mal di testa vi è passato a quanto vedo le ordinò la strega indicando la porta